Ho scritto nell'America, nella Germania, hanno scritto, Freiburg, Freiburg, hanno scritto che io parlo con il cuore. Ok, parlo. Sì, sì, vedo, sai, per quello parlo con te, sai. Due americani hanno detto nel bar, musicisti classici, hanno detto di me nel bar, quel signore parla con il cuore. Ecco. Sì, sì, vedo. Ma ho caldo per altri. Sei bravo. Ho carattere della mamma mia. Come la mamma è? In famiglia, ho i 7 figli. Settimo figlio. Settimo figlio. Settimo figlio. Settimo figlio. Ok, tu sei l'ultimo, o il primo. Sì. L'ultimo. Sì, è una famiglia di 7 figli. Sì, è il mio fratello. Non capisci niente. Sei stupido. No. Thank you, thank you, thank you. Io ho la fantasia. È una medicina, è la fantasia. Sì, è stata un annio schifizia di più di più. È una principale della mamma che ovunque ha detto di più. È un app da cliccare il ritro. È un app da cliccare il sinistro. È un app da cliccare il nostro appare. Grazie a tutti.